Grazie, grazie, resta e mi chiederemo il nome di questo significato, sono emozionato perché è il mio primo concerto, ma è vero il suo primo concerto è la Prosa della Francia. Grazie Simo! Giusto per non mettere l'imbarazza. Esatto! Ok, il prossimo pezzo è un pezzo del Red Touch di Peppers. Un testo facile, grazie. Con un testo facile, ma non difficile. Grazie! Super kill, quit and then they die Oh why do you I'm fighting back in the gap Tell them something made it Hey now, every time I look I see you soon Just to me tell my story I'm meant to be nominated Oh why do you I'm fighting away You're welcome You're fighting So I'm fighting Hey now, every time I look I see you soon So if I ever have never made it Oh, I'm fighting my voice Oh baby, never mind There comes the chances of my father The time I look for the pain That game is that mine You're fighting so excited Oh why do you Just put it all down And now it's time to imitate it Hey now, every time I look You're in the middle of the sadman I'm going to kill you or evidence of my father And now it's time to imitate it Oh, I'm fighting my voice Oh baby Never mind That'd go take lifting Come on guarda, I've been bulletproof Grazie. Grazie.